Roma, Camera dei Deputati di quest'oggi, 8 novembre, Dali Lanesci, deputata del Movimento 5 Stelle, interpella il Governo per sapere se intende revocare l'autorizzazione alle banche responsabili di crimini bancari. Lanesci chiede poi di garantire l'immediato risarcimento alle vittime. Il problema che la risposta, come ci si aspetterebbe dal Ministero dell'Economia, da un sottosegretario all'Economia, in realtà arriva dal sottosegretario alla Salute, Paolo Fadda, stranamente delegato a rispondere. I controlli sulle banche funzionano grazie all'autonomia di Banca Italia. Lanesci ribatte Banca d'Italia e in mano ai privati. Per ultimo poi la deputata chiede una commissione parlamentare sui crimini bancari. Il Governo resta muto sul risarcimento delle clienti truffate o usurati dalle banche. Mi piacerebbe farvi vedere questo documento perché è assolutamente incredibile. Si parla di una delle questioni più importanti secondo me nel nostro Paese perché ritorniamo sempre nell'alveo della sovranità monetaria, di chi è veramente padrone del denaro, della carta moneta nel nostro Paese e dei favori che si fanno a questa o a quella lobby. Credo sia importante che noi tutti ascoltiamo questo intervento perché è di oggi, è fresco e si parla ripeto, di crimini bancari e risarcimento delle vittime. Direi che andiamo a vedercelo, intanto poi dopo magari ci ricolleghiamo ancora una volta per ascoltare Nicola Mora nel caso debba riparlare. Ecco a voi l'intervento di oggi. Siamo ora all'interpellanza urgente 2.282 dei deputati Nesci ed altri concernenti iniziative di competenza in ordine alla revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria per le banche responsabili di violazioni di legge e misure per il tempestivo risarcimento a vantaggio dei clienti danneggiati. Onorevole Nesci, prego. Grazie Presidente. Signor rappresentante del Governo, l'interpellanza annunciata riguarda il risparmio ed il lavoro, che sono fondamenti dell'economia e della vita. Il risparmio ed il lavoro sono dunque le basi del futuro di tutte le generazioni e di tutte le categorie. Ciò nonostante, diverse banche hanno intaccato l'uno e offeso l'altro, decurtando somme di denaro ai correntisti con motivazioni illegittime, prima che furbe tra l'altro. Gli abusi sono comprovati. Li abbiamo già illustrati in un altro atto di sindacato ispettivo. Sto parlando di fatti, non di congetture. Sto parlando dell'applicazione dei tassi oltre il limite di legge, di prestiti tipo cravattai e di commissioni spropositate. Ciò con enormi profitti per vertici bancari oggi sottoposti a processo. Questi episodi non sono insinuazioni o fantasie di impatto pubblico. L'aspetto più grave è che vari istituti di credito hanno compiuto in libertà dei reati molto gravi, come truffa e usura, nonostante gli organi di controllo. Dov'era la Banca d'Italia sulla cui autonomia si fonda la tutela del valore monetario di fatiche, sacrifici e rinunce individuali? Che cosa sapeva la Banca d'Italia di pesanti distorsioni nel credito, contrarie al bene pubblico? E soprattutto, è sufficiente tale autonomia se la Banca d'Italia è per oltre il 90% di proprietà delle banche su cui la medesima ha il compito di vigilare? Mentre noi siamo qui a interpretare i rispettivi ruoli di opposizione e maggioranza, ci sono imprenditori che rischiano di chiudere, famiglie che potrebbero precipitare nello sconforto e nella disperazione, attività e redditi che si perdono per l'assenza di uno Stato realmente pronto ed efficace. Non c'è risposta alle richieste di risarcimento delle vittime. Gli usurati dalle banche sono costretti ad aspettare il giudizio civile per recuperare i loro soldi e ricevere il corrispettivo dei danni subiti. Nel frattempo, molti vendono beni propri per sopravvivere, con la speranza di essere compensati alla fine di uno sfiancante iter burocratico. Tutti i discorsi sulla crescita e sull'economia sono vuoti se la Repubblica non protegge il risparmio privato, se lo lascia all'arbitrio e all'appetito di poteri che sfruttano vecchi rapporti di forza, certi che la sanzione non sarà pari al reato e ai suoi più pesanti effetti o magari non arriverà mai. La memoria collettiva sul caso del Monte dei Paschi di Siena è ancora forte. Inoltre nessuno ha dimenticato il crack della Parmalat. Le due vicende mostrarono la debolezza e l'insufficienza dei sistemi dei controlli, su cui facevano affidamento tante persone comuni, operai, artigiani, dipendenti, piccoli risparmiatori e investitori. Ciascuno deposita in banca per motivi di sicurezza e praticità, convinto che i propri averi non si possano tenere sotto il cuscino, nel materasso o in cassaforte. Chi chiede prestiti bancari sa che pagherà interessi, sicché è disposto ad affrontarne gli oneri. Le banche però non possono sfruttare la situazione, innanzitutto perché non esisterebbero senza i soldi dei privati. Il ministro dell'economia è retto da un ex direttore generale della Banca d'Italia. Perciò il ministro titolare conosce meglio di chiunque altro il sistema dei controlli, i suoi limiti e le sue contraddizioni. La relazione sull'attività dell'arbitro bancario finanziario del 2012 riporta, a pagina 26, che il 65% dei 4.303 ricorsi decisi ha avuto un esito favorevole per il cliente. Il dato parla da sé rispetto al comportamento di non poche banche, peraltro soccombenti anche in sede civile. Come raccontano per esempio la sentenza numero 804 del 2009 del Tribunale di Lanciano, la numero 77 del 2010 del Tribunale di Ortona, la numero 246 del 2010 del Tribunale di Lecce e sezione di Maglie, la numero 252 del 2010 del Tribunale di Chieti, quella del Seluio 2011 del Tribunale di Sassari. Nel complesso gli importi da rifondere sono di alcuni milioni di euro. Con sentenza del 2000, la Corte di Cassazione ha chiarito che la tutela del risparmio è interesse pubblico, riconosciuto in Costituzione dall'articolo 47. Questo significa che più sopra delle varie competenze amministrative c'è la tutela che si deve ai risparmiatori, tanto più alla luce di procedimenti che coinvolgono responsabilità bancarie per frode ed evasione fiscale, con manager consapevoli, secondo i magistrati, delle specifiche responsabilità penali. In alcuni casi ai clienti furono rivolti a debiti impropri, utili a accumulare risorse e da impiegare in scalate finanziarie. È storia, purtroppo. Vennero prelevati importi perfino da conti intestati a soggetti defunti, deceduti. Siamo a un punto di non ritorno, specie se rimane il dubbio, indotto dalle cronache, che pure il Governo della Banca d'Italia abbia potuto permettere certe infrazioni. Lo scorso 17 luglio l'imprenditore calabrese Antonino De Masi, vittima di usura bancaria accertata dalla Corte di Cassazione, raccontò la sua vicenda nella sala stampa della Camera dei Deputati. Esiste il filmato su internet facilmente reperibile. De Masi ha avuto problemi con l'erogazione del mutuo pubblico anti-usura, richiesto nel 2006 e ricevuto in parte solo da pochi mesi. La sua storia, fatta di ragioni, di coraggio e di determinazione, ci è sembrata rappresentativa dell'urgenza generale di interventi a tutela del risparmio, inteso come interesse pubblico. Occorre fermare definitivamente abusi, irregolarità, arbitri e alterazioni, rendendo presto giustizia alle vittime. Pertanto chiediamo se il rappresentante del Governo ritiene utile predisporre misure, anche di carattere normativo, volte a revocare l'autorizzazione alle banche responsabili di reati e violazione di legge e, insieme, misure per il tempestivo risarcimento dei clienti raggirati. Grazie. Io, sottosegretario Fadda, facoltà di rispondere. Prego. Grazie, signor Presidente. Con l'interpellanza urgente numero 200282, l'On. Nesci ed altri sollevano diverse questioni inerenti presunte irregolarità degli intermediari bancari italiani che, mettendo in atto prassi illecite, usura bancaria, illusione ed evasione fiscale, truffe e agiotaggio, creano effetti distorsivi sul mercato e cagionano danni, sia diretti che indiretti, ai consumatori. Al riguardo, la Segreteria del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, sentita la Banca d'Italia, ha comunicato che la rilevazione dei tassi medi che vengono pubblicati sul sito Internet della stessa sono determinati da un automatismo stabilito dalla legge a partire dai tassi medi di mercato rilevati trimestralmente da Banca d'Italia e pubblicati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Le istruzioni emanate dalla Banca d'Italia possono costituire una metodologia di riferimento per la valutazione dei casi concreti condotta dalla Magistratura, ma ovviamente non ne vincolano le decisioni. Con riferimento all'asserita o messa vigilanza della Banca d'Italia sugli istituti di credito che hanno applicato condizioni usuraie alle aziende del signor De Masi, si rappresenta che le denunce presentate dallo stesso De Masi a partire dal 2003 hanno dato avvio a un complesso iter-giudiziario conclusosi solo nel 2011 con la pronuncia della Corte di Cassazione che ha accertato la sussistenza dell'elemento oggettivo di usura, assolvendo tuttavia gli esponenti per la mancanza dell'elemento soggettivo del reato. La Banca d'Italia ha prestato nel corso del tempo ogni utile collaborazione nell'esame della vicenda, sia alla Prefettura di Reggio Calabria che alla Magistratura. In particolare, su richiesta del GUPU del Tribunale di Palmi, la Banca d'Italia ha messo a disposizione di detto magistrato, in qualità di consulente tecnico, un proprio funzionario esperto in materia di usura, la cui perizia è alla base dell'accertamento giudiziario delle condizioni applicate al gruppo De Masi. Questa interpellanza parlamentare urgente contro i crimini delle banche meritava senz'altro una risposta da parte di un altro ministero, non certo di quello della salute.